Non c'è nessun sentiero del parco in quell'area, basta mistificare la realtà. A distanza di tempo dalla tragica morte di Simon Gauthier, anche il parco del Cilento interviene sulle polemiche e provocazioni che qualcuno ha fatto nei confronti del parco. Rispettare la morte di un giovane significa anche preferire il silenzio alla mistificazione della realtà, solo per il gusto di parlare e di apparire, gettando fango sul lavoro di altri, dichiara il presidente Tommaso Pellegrino. Perché accostare una tragedia a situazioni che nulla hanno a che fare con il parco, con l'ente parco. Il parco oggi sta lavorando con le maggiori associazioni di categorie per mettere in sicurezza i sentieri, per cercare di creare le migliori condizioni possibili per far frequentare i nostri sentieri. Interagiamo quotidianamente con i sindaci, con le comunità montane e abbiamo fatto due importanti protocolli con la FIE e con il CAI. Parlare oggi, accostare tra l'altro in un territorio dove è venuta la tragedia non c'è nessun sentiero del parco, non c'è nessuna inadembienza. Allora anche su questo, io penso che noi dobbiamo essere un pochino anche più orgogliosi dei nostri territori. Non può passare assolutamente il messaggio che il Cilento non è sicuro, non può passare assolutamente il messaggio che da noi c'è incuria e c'è disinteresse. Noi rispetto a queste accuse che abbiamo letto sui giornali in questi giorni, addirittura qualche giornale nazionale ha parlato di aggressione da parte dei lupi perché nel Cilento, nel nostro parco, sono stati messi i lupi, cosa assolutamente falsa. Allora non possiamo accettare di essere nell'ango e di far mortificare un territorio che sta facendo tanti sforzi, tante iniziative per cercare di far venire fuori il meglio che abbiamo nel Cilento.